Si riaccende la speranza per Cantarelli e i suoi lavoratori. La storica azienda retina è stata data in affitto al gruppo bulgaro Rickmart che ha vinto la gara indetta dai curatori fallimentari. L'offerta è arrivata allo studio legale Sanso di Milano ed è stata ritenuta a quanto pare sia congrua che migliore delle altre pervenute. La notizia è ancora ufficiosa, diventerà ufficiale nelle prossime ore, ma lo scenario sembra ormai delineato. Lo stesso gruppo Rickmart aveva provato al salvataggio durante l'amministrazione straordinaria, arriva in quel caso però il parere contrario di commissario e ministero. A guidare la Rickmart c'è Martin Yordanov. Secondo il disciplinare presentato avrà il compito di far ripartire la produzione con un primo investimento di circa 500.000 euro con l'acquisto dei capi di magazzino e tessuti. Ancora prematuro capire con quali e quanti lavoratori ripartirà la Cantarelli. Ma intanto ripartirà.